Finiti i fuochi artificiali, si cominciano a tagliare la torta, in realtà diamo l'attenzione a te che entri da là, ok? E entri dentro come fossi una sorpresa, quindi vieni qua dal festeggiato. Ma qua c'è la torta. Qua c'è la torta. E io dove muovo? Qui. Qui è il centro tuo. Per quanto mi guideranno un sacco di persone? Sì, comunque noi... Io giro tra le persone. Sì, è bello. Io faccio un spettacolo normale, faccio un spettacolo bucanico. Brava, anche perché qui hai... Il tuo centro sarà qua. Però io poi ci presenterò, ti farò vedere quale festeggiato che arriva prima. Lo vedi, così magari vai verso di lui e fai la scelettina del palloncino con lui. Sì, io prendo la rosa, non la fai nel centro. Ok, ti faccio trovare un tavolino. Però non devono toccarla. Tu userei la detta vicino al tavolino. Sì, va bene, quel tavolo naturale lì, che bello. Sì. Allora, lì sopra, semplicemente te la porti, te la posi lì. E stai dicendo... Quando è finito, se ci sono più dei fili, puoi tranquillamente, vi sopra ne più palloncini, non ci sia palloncini così, anzi, te guardo volentieri...